Sì, non c'è l'espessivo. Sì, non c'è l'espessivo. Dovevo stare qui ma stretto. Sì, non c'è l'espessivo. Non devi stare lontano. Sto stretto e poi allargo e vedo tutti loro e dicono no. Se faccio, dovete fare. No! No! Vieni! Vieni! Palazzo 10. Vieni! Vengo? Oh, Nini! Presidente, come mai volete mettersi? Che tipo è? Cos'è questa? Tivu. 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 Grazie.